A presto, questo è del legno, 8 mm. Te ce l'hai l'altra macchina qui c'è la Gio? C'è più? No, questa è la macchina. La velocità cosa va? A seconda delle cose? A se regola. A se regola pure la velocità? No, a più come se lo c'è diciamo bene, perché non è che sta a chi è. A se regola sulla scherza.